Amici sportivi un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti a questa importante sfida che vede in campo il Real Latina e lo United Aprilia, sfida importante della settima giornata della campionato di serie di girone A, si parte, ancora la combinazione, ruba palla Di Giorgio, Di Giorgio occasione Di Giorgio, ottimo Gregori, funziona il pressing alto degli Apriliani, poi Vavine a Galieti, si perde un po' il pallone, poi torna in possesso della palla ed è vincente il suo diagonale, segnato poi Di Giorgio, ancora Aprilia pericoloso, Pompili dentro per Di Giorgio prova a difendere il pallone e poi calcia questo diagonale che finisce sul palo e forse in rete c'è qualche protesta che l'arbitro non convalida e fa continuare il gioco, ancora Aprilia pericoloso, Pompili e stavolta è il 2 a 0, il Real che cerca di scuotersi dopo questo 1-2 Apriliano, ancora Di Giorgio, il sinistro, il 3 a 0, Cesaro proprio lui in possesso di palla, pallone sulla sinistra, Fagioni prova la conclusione, la deviazione, Cesaro, Cesaro occasionissima, ancora in profondità Di Giorgio, arriva il poker e riparte subito il Real, Fagioni il destro di un soffio alato, Galieti, pallone fuori, sul pallone Gervasi, Cesaro, ancora Pompili la spinta di Gregori, poi ancora sottoporta Gervasi che non riesce, Pompili esce e va via molto bene, Pompili azione personale, Stasino, Stasino non è per Crozzoletto, Stasino occasionissima ma Trobbiani salva tutto, Crozzoletto, dribbla di Giorgio, Crozzoletto e la rete di Crozzoletto che lo ferma irregolarmente, batte subito il Real che accorcia ancora con Fagioni, ma c'è il break del Real Latina, il sinistro di un soffio alato per Pompili, Pompili prova il destro Pompili, risposta in calcio d'angolo di Gregori, una calafate dentro, giocare di Giorgio, parte di Giorgio, il sinistro la parata di Gregori, sarà rimessa United Chance non sfruttata dagli Apriliani, poi il destro vincente di Galafate, Galieti contro Gregori, Galieti, Galieti la deviazione di Gregori sul palo, Stasino, Stasino prova a liberare il destro, Stasino il diagonale fuori, Crozzoletto, Gregori, pallone dentro per Stasino, due volte, due volte Masullo, e allora occasionissima Aprilia con Pompili, nulla da fare, finisce così, lo United Aprilia espugna il terreno del Real Latina, 4 a 2, un saluto da Fabrizio Agostini e a risentirci al prossimo appuntamento.